Perchè ho scritto una risposta per me, per te? Perché vorrei, ma ho scelto di aspettare, vorrei qualcosa, vorrei un giorno per star con te, per come sei, qualcosa di vero che proteggerei. E poi, non parlo mai abbastanza, però, mi vedo, però, qualcosa di vero c'è ma non si sente. Qualcosa che sembri tu nella mia mente, dentro il cuore che batte più forte quando stai con me. Quando il mondo mi sembra più bello inizia ad essere. Perchè è vero, è vero che ci sei. Perchè è vero, è vero che ci sei.